Pronto soccorso intasato, incertezza dei posti letto, queste alcune delle questioni sollevate in Consiglio Comunale dal capogruppo del Partito Democratico, Luciano Galli. In una interrogazione ha chiesto al Sindaco se sta seguendo tutte le questioni inerenti la sanità. Abbiamo interrogato il Sindaco e sostanzialmente sollecitato e raccomandato al Sindaco di seguire le vicende della sanità locale. Negli ultimi tempi è stato un iperafflusso al San Donato, cioè il San Donato rimane e è un ospedale fondamentale nella rete di ospedali provinciali e forse sempre più lo sarà su questo. Quindi il Sindaco come Presidente della conferenza dei sindaci zonale deve seguire con la direzione della nuova azienda Toscana Sud-Est se l'ospedale in termini di posti letto, di risorse, di personale è adeguato a questo nuovo ruolo del San Donato, come sollecitato anche precedentemente, anche per la parte strutturale. Forse il San Donato comincia ad avere anche qualche anno nella parte costruita molti anni fa, per cui occorre preparare il San Donato degli anni 20, non del 1900 ma del 2020 che ormai sono alle porte.